Non tutti gli allenatori vogliono rischiare di dire ma io vado in un posto che per quanto bello sia, per quanto mi possano pagare, rischio il paragone con uno che ha vinto con 16 punti di vantaggio. E dice ma chi me lo fa fare? Vado a scegliere la situazione più semplice. Io dico sono degli stupidelli perché non sanno quello che si perdono vivendo a Napoli. E' chiaro il ragionamento no? Perché a Napoli si respira la vita, un'aria e un'energia che tu non trovi altrove o forse la trovi in alcuni rari posti del mondo.